Per la prima volta quest'anno saremo anche noi in diretta su Eurosport, è un evento veramente importante per tutto il nostro movimento e quindi siamo orgogliose e ovviamente come dicevano loro, più andiamo avanti e più il nostro mondo si migliora. Sì, battere il Galles sarebbe una cosa fantastica. Abbiamo concluso l'anno scorso il torneo con loro, abbiamo fatto un sacco di fatica per portare a casa quella vittoria e secondo me quest'anno sarà ancora più difficile.